Andiamo a testare totteria Andiamo a testare totteria Alquis, Alquis, bisogna mettere il nome del personaggio che ti indicano Andiamo a testare totteria Allora, secondo me anche Foundry in realtà soffre tantissimo maghi Però proviamo Proviamo, proviamo Proviamo E poi soffre tantissimo purga soprattutto Totter, ma non ce l'ho, quindi devo fare not collected Questo qua, giusto? Sì Poi Questa E ci serve un lifelinker sicuro però, perché non bastano all dead glitter e quelle cose lì, giusto? Ci serve sicuramente qualcosa che ci stabilizzi le partite contro gli aggro Quindi portable all tipo Grazie the jackal Portable all E forse anche quello che fa 5 danni Grazie, grazie mille per il prime Grazie, lì c'è Lì c'è Lì c'è Lì c'è lì c'è l'ox Grazie mille Lo skirge potrebbe essere, sì O lo skirge o il toolcraft, ragazzi Bisogna vedere Perché lo skirge ha un grossissimo problema È che si attira addosso mille sfighe Si attira addosso mille sfighe lo skirge Poi bisognerebbe usare quello che pesca in base alla devozione che hai Proviamo lo skirge, davvero Vabbè dopo togliamo le terre Gescai per mettere iotia No, ti appesantisci troppo con i colori ragazzi Non puoi mettere iotia Troppo pesante con i colori Già questi 4 escono dalla strategia artefatto E mi dà molto fastidio Molto molto fastidio Perché non possiamo neanche più giocare le doppie artefatto ragazzi Altrimenti davvero ci manda sulla luna una Una purga Potremmo provare a giocare le confluence in realtà Le confluence potremmo provare a giocarle Poi vediamo Sì adesso la mettiamo La counterspell Ma reprieve No mi fa schifo quella carta lì Box Penso che sia la più grande scammata della vita di alchemy Io metterei reprieve Per salvarsi da aver detto tipo no 3 spike 3 rebuke 3 rebuke No cittadella si chiama Darksteel citadel Eh dico che vi fixate male con i colori A meno che non giocate le manaconfluence più che altro ragazzi Funziona Funziona Fabrizio Non sei mai fuori colore Come fai a non essere mai fuori colore Come fai a non essere mai fuori colore cosa giochi Le rosso bianche Le blu Le blu Non giochi Non giochi questi Non giochi questi Ah giochi tamburi foglie di primavera Lo proviamo dopo quella versione lì Adesso non mi fido troppo di quella versione lì Ok Proviamo Mandala mandala Dopo lo proviamo Proviamolo così intanto Voglio vedere il Totterista in un Azorius cosa fa Che poi Non stiamo giocando Nettelchest per esempio No Non stiamo giocando Nettelchest Non stiamo giocando Karn Bisogna ragionare anche su quelle cose lì Ma adesso che il meta è un po' incerto Ci sta a farlo Ci sta Ci sta Ci sta Karn non il grande creatore Ne ragazzi Karn è quell'altro Karn è quell'altro Si chiama proprio Quello che si gioca solo in questi mazzi qua Solo ed esclusivamente in questi mazzi qua Allora Non è bruttissima questa mano Ci manca il blu Però abbiamo Reprive E Volskirge E Portable Hall Che ha già preso un pezzo intanto Si Penso di si Anche perché poi lo andiamo a animare No Portable Hall Vai Speriamo non faccia più che altro Arcanista Ok Mi sa che abbiamo fatto bene a toglierlo Scionofurza Che cos'è Spoonessia Ok Quindi possiamo davvero animarlo Conviene No Conviene fare Reprive Infatti che non possiamo animarlo Abbiamo il mana Quindi facciamo Reprive Il turno dopo Retrofitted Volskirge All Dead Glitter No scusate Volskirge All Dead Glitter Che volskirge Così diventa grosso Qui c'ha doppio mana blu Che ci piace tantissimo Carnation of Urza Si Col cacchio Che ti ridò monasteri Te la riprendi dopo Qui animiamo la Darksteel La 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 Non fa in tempo a farlo Animiamo la Darksteel Si perché se no lui ci fa un 2x1 Vai Ah non può fare un 2x1 Non è Mago la Non è Maga lei Quindi Proviamo così Non è Maga la La Swispir Speriamo non faccia un drop a 1 Mago adesso In alto a destra Melonida Sono sempre in alto a destra Nel mio diaclist Che fa? Spacca un indistruttibile L'abbiamo mandato in palla L'abbiamo mandato in palla Ci siamo Volskirge All Dead Glitter Ci siamo ragazzi L'abbiamo mandato in palla Ancora meglio Olè Mandato in palla Da una Darksteel Citadel Dai Perché Perché mette in priorità Non le giocate Ma le tue vite Purtroppo Meloni Andrea Per quello Fede punto Fede punto Punto Questo è un Mulligan Questo è un Keep Via Micico Tanto è troppo instabile qua Micico Vai UV Control UV Control Che ci può fare purga il turno dopo Quindi bisogna fare Toad Monitor qua Sì Bisogna fare Toad Monitor Combat Vediamo se mi fa una removal Non penso Penso che si prenderà 4 danni Il problema è che se risolve Volt Probabilmente lui ci farà counter su questo Buongiorno Jerry E dai c'hai purga per forza Per forza Terra bianca purga persa Toglie anche Darksteel Citadel Uh Terra tappata Terra tappata buona Terra tappata è buona ragazzi qua eh Se non ha Supreme Verdict Che però Non toglie retrofitter founder I Supreme Verdict No Eccolo là E allora si pesa E' attenzione che questo è un solo artifact Se peschiamo l'handa e lui fa vratta Vinciamo eh Non ha vratta? Può avere Wandering Amp Io secondo me non devo giocare niente qua Secondo me non dobbiamo giocare niente Perché sono 8 danni Di cui ne passeranno semplicemente 4 Lui ci toglie il 4-4 E va a 12 E poi Facciamo Barbed Spike Che ci dà un token di retrofitter founder Noi chiudiamo con un solo su Darksteel Citadel Dai è chiaro È chiaro È chiaro Vai Se fai il token Prima di fare vratta È il mio eroe Il mio eroissimo O non ha vratta in mano quindi Potrebbe avere un altro Emperor Ma 8 è molto diverso Rispetto a 10 di prima Perché adesso facciamo il token noi Terra Dai Terra stappata Vinta Penso vinta Cioè dipende che cos'ha Ma penso vinta Ma Kalim Ok Kalim non è vinta So 4 danni Vai Farewell E poi E poi cosa ti facciamo fare Ti regaliamo tutto fede Gigi Spiazze ma Quel Teferi era troppo 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 Ok 2-0 Sì stiamo giocando Gerry C'è la La Totterista C'è la Totterista E poi c'è E poi c'è Il mago nuovo Che è da provare E lo Strangle Praticamente Strangle Non esiste più in Historic C'è la carta nuova Che è troppo più forte È scomparso Sherry Stamattina sono andato Dalle mie Parrucchiere di fiducia E mi hanno Tosiato tutto Tra l'altro mi hanno anche Graffiato C'è un graffione qua Nel farmi la barba Mi hanno fatto un graffio Tremendo di qua o di qua Non mi ricordo più E hanno scoperto Che qua dietro La mia ragazza Con il suo Orologio Mi graffia tutta la notte Perché ho tipo Un taglio qua C'ho tipo La testa bucata Dragil Sembra una mano forte Sembra Poi Vediamo Due mago Questa mano è forte Contro maghi Ok Allora Secondo me qua Gli facciamo Reprive Una visita Dramatologica È vero Può essere Può essere Invece è la signora Baina Purtroppo Invece è proprio La signora Baina Rebuke Darksteel Rebuke Darksteel Facciamo questo Vai Lui adesso Dovrebbe fare quello Non ho fatto Un solo Artifact Perché solo Scaramaggia Te lo butta giù Ma sai Ma sai che Quasi quasi Qua counter È l'unica cosa Che mi può buttare giù Via Poi Poi oh Se fa della roba Più forte Pace Ma questo Lo counteriamo Eh va bene Ne abbiamo un altro Ma va bene C'è un mano E basta adesso Adesso facciamo Così 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 No Aspetta Così Così E così Zio Pera Vai Fiamma di Anor Fiamma di Anor Ci fa un 2x1 Pazzesco Qua Però ci fa pescare Una carta No Neanche Neanche Per fortuna Ha fatto il 2x1 Sbagliato Mamma mia Meno male Ragazzi Ha giocato malissimo Per fortuna Per fortuna Ha giocato malissimo Ragazzi Mamma mia Che fortunati Che siano stati Boh Vinta Mamma Si ha giocato male Mamma mia Mamma mia Ha voluto pescare Per fortuna Grazie Classical Tian Grazie mille Per il ride Grazie Carissimo Come stai Mamma mia Meno male Che ha giocato malissimo Lui Meno male Grazie Tian Adesso Se fa spell Pierce Deve pagarmi Il ward Grazie Tian Grandissimo Ragazzi Vabbè Tian Famono Sto qui Neanche A A presentarvelo Uno dei più forti Giocatori In Italia Di Magic Gathering Punto Quindi I bono Pumpa Gli facciamo lo shoutout Ma è uno shoutout Di ringraziamento E di apprezzamento Per quello che è Allora Barbed Spike Sono due artefatti Di intanto combat Di aggro No Decisamente no Un bravissimo controllore Un bravissimo controllore Vai Oppo C'ha la terza fiamma Di Anor Grande Tian Grazie per il follow A Junglek Grazie Tian Per il ride Sì Alchemy è diversissimo Alchemy è diversissimissimissimo Tutto bene Tu come stai Tian? Io stesso Mi sono puntato In historic Dopo che hanno Nerfato Due mazzi E ci siamo buttati In historic Anche questa mossa Non ho capito il perché E il volante Non era più Problematico Di Di Esper Sentinel No? Non lo era? Mossa stranissima Ah in Alchemy Non ne ho idea Neanch'io Tia Non lo gioco mai Non lo gioco mai 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 So che c'è un mono red Molto forte E che c'è Esper Rusco Tipo Che è molto forte Ma lui ha giocato malissimo Questa partita purtroppo Poverino Mi dispiace Perché ha giocato proprio male Cioè poteva uccidermi Darksteel Citadel E non l'ha fatto Ha voluto pescare Quelle due carte Che hanno trovato Un po' il tempo Fino a se stesso Mi dispiace Perché poteva vincere La lui questa E Rusco sicuramente Molto forte In Alchemy Il mazzo con Rusco Orzov è carino E poi c'è Monored Botti Ancora Ma basta Ma togliami Darksteel Ma 5 danni a Darksteel E niente Ha fatto 3 volte Lo stesso errore Ciao Pe Buongiorno Ha fatto 3 volte Lo stesso errore E no Se gli dai Meno 5 Lui ha avvizzire Ragazzi Avvizzire Non può Cioè muore lo stesso Perché va a 0 di costituzione Buongiorno Pe Buongiorno Grande Grazie mille per i ride Tian Grazie 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 di cuore E buone commissioni Può essere Pollo Può essere Può essere benissimo Però mi dispiace Non posso dire Che abbia giocato bene Poi magari Un nuovo giocatore Per carità Giustificatissimo Ma per 3 volte Caspiterina Ciao Gianglek Ci sta per un nuovo giocatore Avete ragione Avete ragione Aveva vinto Però eh Cioè se Se sapeva quella regola lì Aveva stravinto Stravinto Tripla fiamma di Anor Contro di noi Una vabbè È stata counterata Ma la prima bastava E avanzava Per ucciderci Sì sì L'avrebbe vinta totalmente Totalmente Eh Maggi Sempre forte ragazzi Purtroppo Adesso sarà ancora più forte Torna sicuramente A essere un tier 1 Comunque Il codice Che dovete mettere Per arena È Questa qua Così ce l'avete Se non l'avete ancora messo Vi da qualche exp È questo qui ragazzi Tutto attaccato Questo qui Beh Se non kippiamo questa Questa quanta affinità ci fa 1 2 3 Questi menano Però sono open Di counter spell Se faccio questa di primo Ah sì Siamo open Di counter spell Grande classica Al Ci sta Ci sta Vai Noi abbiamo Counter spell Di primo Ci servirà No Citadel Micico Combat Vai Stiamo provando Il meta nuovo P Poi è uscito il pezzo nuovo Per artefatti È uscito alchemy Quindi lui è control Vabbè allora stiamo open Di metallic rebuke E basta Stiamo open di rebuke E via Pensavo fosse life gain Non ci può far risolvere Questa però Ok Quindi purga L'abbiamo Battuta No perché non muore Ok No perché non muore Dice Elspeth Mai dice Se quella creatura Sta per morire Invece Esiliala Ma se non muore Non esili niente Sì jungle Stiamo studiando apposta Adesso in questa live Perché Dobbiamo Dobbiamo prepararci A questi cambiamenti Che ci sono stati Allora così Grande Baobab Esatto Esatto Il drop a 2 Però non l'abbiamo ancora giocato No more lies Va bene Va bene Devo stare open Assolutamente Di counter qua Per salvarmi Mi cico Potremmo trovare Terra in realtà Ma no È troppo rischioso Cioè se lui fa terra Vratta Vabbè siamo morti comunque Perché fa verdetto Però Se non ce l'ha Se non ce l'ha Stiamo tenendo una board buona Eccolo Però dopo Sì dopo Qui dobbiamo salvarci Il portrait of mi cico Se avesse avuto Vratta L'avrebbe già fatta O la pesca ora O non ce l'ha Va bene Sono 8 danni Questi devono stare indietro Per enablarmi Counter spell E qui è il momento Della verità O aver detto O è morto Aver detto Va bene Totterista Emporista Terra In realtà Lei ci dà Un bel Late game Perché facciamo così E adesso Lui deve avere Removal Su questo Se non ce l'ha Metallic Rebuke Ci salva E' vero che lui Riprende una vita Tutte le volte Però anche tante Ada Carvostis Forse era meglio Lasciarlo stappato Per fare Rebuke Vabbè Ha fatto Purga Purga Nel momento Peggiore In cui potesse farla Quindi ci può stare No Ci sta Non è che ci può stare Ci sta Perché adesso Una è Trattata Tappata Proviamo Dipende quanti Counter ha Si era meglio Non equipaggiare La Probabilmente ho perso Lì Non dovevo equipaggiare Dovevo restare Open di Rebuke Salvarmi il Totterista Si Devo fare così Lui è pronto A fare Kalim No Si Lui ha già Kalim Bono Bono Questo Se risolve È buona Eh Se risolve Questa è buona Buona Vai No vabbè Pauper Classico Non lo metteranno Mai su Arena Ragazzi È più facile Che mettano Pauper Di Arena Ma non credo Che succederà Non credo Che succederà Non credo Che succederà Ok Quindi arriva Kalim Come lo risolviamo Kalim Non lo risolviamo Abbiamo perso La Quando ho sbagliato Equipaggiare Secondo me Si l'ho persa Lì Adesso Lui lo tiene in difesa C'ha quella Ah Questa è forte Però Questa è la Counter Vai Fa una Un tottero Cioè fa un 1-1 Lui Eh Pseudo commander È sicuro Ragazzi Perché Ormai hanno messo Troppe carte Che dicono Sono due Le già le carte In alchemy Che dicono Multiplayer Si era meglio Rimanere open Di rebuco Assolutamente Ma questo L'hai fatto Che secondo me Questo ti fa più male A te che a noi Se non giochi Life gainer In mano Perché è vero Che io ti ridò La vita Con retrofitter Però intanto Mi sconto Lui E Io Volo tanto Più che altro Facciamo così Ci proviamo Questa non me la fa risolvere Però Me l'ha fatta risolvere Attenzione Vai Adesso è durissimo Ma ci proviamo C'è un altro Kalim Due Kalim Sì l'ho visto Ho visto la discussione Sul gruppo Non ho capito Perché è partita Quella discussione Lì Ma l'ho vista Probabilmente Vience di All of the store giants Lui Troppe lande Troppe lande Troppe lande Troppe lande Troppe troppe lande Paga il mana Me l'ha fatta risolvere così Ok Vai Cicla Kalim Due volte Va bene Vuole menarmi di Kalim Soprattutto Ho bisogno Probabilmente Di qualcosa Che gli risetta L'anello A questo punto Vediamo Pesca tre Che ci basta Veramente un Non nulla Per ucciderlo È che Secondo me Ha tantissimi Kalimi in mano Già che mi tappano I pezzi Che gli fanno I danni detali Oppure gioca Union of the third Pact Cosa del genere Si tappasse qui fuori Per fare White sun Twilight Rebuke Che lo counter Attacco More back Sarebbe il top Sarebbe il top Eh queste sono due vite Col totterino dopo Quindi sì Terra tappata Ci piace Due vite a lui Pesantissimo Ah ma ce li dai Ce li dai Vai in mano Non in campo Fortissimo Allora Qua Faccio un tottero Prima che il tottero Gli dà davvero Queste due vite Adesso E allora Già che ci sono Mi sa che faccio Anche l'altro Oh se ha Se ha un altro anello Un modo per salvarsi Si salva Se no vediamo Vai Si Purtroppo si Quanti calima ha preso in mano Secondo voi Dieci Dieci Nove Otto Sette Va bene Mille 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 Un giocatore forte Qui va Purga Vratta E moriamo malissimo Anzi Purga 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 Snapcaster purga 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 Si Va bene Il cane Il cane Nello store È vergognosissimo È vergognosissimo Il cane Nello store È uno sticker Non è neanche Un companion Cazzo è uno sticker Davvero uno sticker 11 euro uno sticker Ragazzi Scusa No ma è il cane di fallout Quindi Ma non è un companion È solo lo sticker davvero Io pensavo fosse il companion Di fallout Minchia che mano Devastantemente brutta Abbiamo Contro maghi Un grande Manigoldox Mi fa piacere Solo tre danni? Solo tre danni Pazzesco Dopo te E qua Abbiamo un free blocco Se non una fiamma di Anor Compagnia raccolta Collected company Ah e sia il pet Che uno Dove l'ha Ma Scusate Cosa Cos'è successo? Perché ha fatto charge Sul pezzo Che era già in campo? Sbagliate? Hai sbagliato Amico mio Qualquo Adra Mi dice che hai sbagliata Forse è tutta una strategia Chi lo sa Non si può mai dire Allora Allora Vai 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 Sì ma le foil Sono belle Cioè le foil Per esempio Perché la gente Investe in foil Se io prendo Le mie carte di valore Che ho qua dietro Che sono in vendita Su car trader Perché la gente Investe Perché la gente Investe sulle foil Adesso vi faccio vedere Io il perché Perché alcune Hanno dei valori Fuori di testa Ragazzi Cioè È come un investimento Grazie Vaccona Grazie mille Cioè Se io vado a vedere Questo Qui sono le fetch Questo etali Sapete a quanto lo vendo io Questo etali Che è foil Da pre-release E l'ho sbustato Per fortuna Tra l'altro qui In live con voi Lo vendo 35 euro Quelle etali qua Ragazzi Etali non vale 35 euro Ne vale molti di meno Però Il fatto che sia foil E che sia Del pre-release Mi permette di aver fatto Una piccola sbustata Che è fruttata Un investimento Quindi ci sta La bellezza delle foil Comunque c'è Senza dubbio Siamo a 6 Uh top deck Gran top deck Tra l'altro Il dubbio è Lo facciamo Il drop Eh per forza Vola Blocca Teniamo in blocco Due pezzi Se non la botto botto Forse vinciamo Sì Vai 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 Sì Sì gaucho Dovremmo aver vinto No Uno Ah no C'è il blocco lì Però noi Dobbiamo fare Reprive Quindi Facciamo Tote monitor E stiamo open Di reprive Aspetta Fammi fare due conti Però Perché se io metto All that glitter Qua Lui mi ciampa Con questo Ma metto Anche In solar Tif Ah non posso Tremana Io Starei open Di reprive Beh Non mi sembra Che sia successo Qualcoso di brutto Però il 5-5 Deve stare in difesa Per il trample Dell'arcanista Ma l'arcanista Se lo toglie Da solo Perché Vaccona Grazie mille Benvenuto tra gli abbonati Grazie di cuore Grazie mille Perché si è tolto Da solo Arcanista Amico mio Finché non trampli Questo l'hai fatto No no Gaucho Questo l'ho L'ho fatto io Per testing GG Si è tolto Da solo Arcanista Ragazzi Non lo so Non riesco a capire Grazie Grazie Vaccona Grazie mille Grazie davvero Ci conto Ci conto Vai No no Può essere Sherry C'è stata una patch Che ha fixato Alcuni bug Ma altri Ne sono rimasti Quindi può essere C'è stata una patch Ieri sera Ho sbagliato A fare your go Ah scusate Sapete che Mi sclicco Questa si kippa Turno 1 No anzi Turn Dipende cosa fa lui Allora In teoria è turno 1 Vai Perché poi facciamo questa L'importante è non facciar Arcanista adesso Lui O Balmor Che Balmor è più forte Contro di noi Cazzo Cazzarola Cazzo Cazzarola Eh siamo morti È molto semplice Balmor ci manda Non al baretto Di più Invece no Invece no Io capisco Che lui possa avere Un'altra removal Ma perché Fare questa ora Quando il 4-4 Ti può mangiare L'1-2 Perché mi fai botto In faccia Allora Allora Vai Quindi vuoi Facebeccare Strangle Paga il mana Vai Vai Va bene Va bene È giusto Perché così Non lo blocchiamo E poi flashback È il botto Di Arcanista Non può Fa Strangle È che Con Trample Ci ammazza Lo stesso Aspetta No non ci ammazza Che cazzo fa Cosa Cosa sta facendo Cosa fa Ma perché Ma scusami Hai appena perso Arcanista Cioè Ci ammazza Lo stesso In due turni Ma È concettualmente Sbagliato Quello che fa Sì Secondo me È più forte Monastery Swispir Il suo scarmaggio Se adesso Pesco Portable All su di lui Eh niente Abbiamo Solo Totter Ma purtroppo Lui c'ha la risposta Naturale Ai solo Totter E ti basta Una spell Hai vinto Monastery A questo gioca Entrambe Addirittura Ah non ha Una spell Ottimo Ottimo Ah ce l'ha La spell Allora Si ci uccide Ci uccide Perché Da trampola Tutti Moriamo Grande Yuri Oppure fa fiamma Di Anor Addirittura Sicuro GG Balmorti Balmorti 2 Non ci stiamo Dietro Senza Portable All Ok Ma in questo mazzo Tra l'altro Ragazzi Non stiamo giocando I 5 danni Non i 5 danni Rossi I 5 danni Bianchi O la valla Spacca Dai 5 danni Bianchi Sono forti 2 glass Casket Anche Eh la trappola Bravo Seraymon Con le 2 Leiline Verdi Lo so Bit è più forte Con leiline Verde Sicuramente Perché usi Gli elfi Meglio Se l'elfo Ti sopravvive Più sinergico No I 5 danni Bianchi Fabrizio Siamo 4-2 Adesso Gaucho 4-2 Questa è vinta Dubito Fortemente Che gli Oppo Possano fare qualcosa Con questa mano Però Metti che Ha un mazzo Perfettamente Che risponde al nostro Vediamo Però questa mano È fortissima Questa mano È veramente Forte Ragazzi Grazie Da Edric Counter Eh scarto Fontana Oddio Combo Grande Da Edric Mano Troppo Forte Ragazzi Questa qui È veramente Una bestia Di mano Non mi fido Perché non so Che mazzo È Vai Sembra Hord of life gain Però No A quanto pare È mono black Ah è big black E allora sei morto Se sei big black E abbiamo questa Se pesco una landa E te Non riesco mai A provarti Combat Come vorrei Boh Nel mazzo Che vorrei Tu adesso Cerchi di fare Vratta E io te la Counter E vinciamo Di micico Non c'è Non c'è creatura Nel tuo cimitero Quindi Siamo Little Peccato non aver provato Lui Però Mano Troppo forte Questa Mano Veramente Devastante Questa Vinceva Contro L'80% Di mazzi Cinque Sì Questa vinceva Contro tutto Contro tutto Veramente Non penso che Ne avrebbe mai persa Una Questa Vai Perché Avevamo Un deplay Fixati Perfettamente Con anche Una buona Affinità Tra l'altro E abbiamo anche Counter Da poter fare Quasi gratis Quindi sì Mano troppo Troppo forte E poi abbiamo pescato Doppio Tottero L'Urrus Da kippo Perché c'è Darksteel Citadel Se non avrei mai Kippata Questa E poi se per caso Arriva Tottero Di primo È tanta roba Mirror Mirror Ragazzi Non fate la clip Vi prego Dai Non fate le clip Non fate gli stronzi E non fate le clip Per favore Problema Lui potrebbe avere Portable Hall Lui può avere Portable Hall Passo No Sherry No che poi dicono Che influenzo il meta Basta Basta Che non è vero Tu penso L'artifact Combat Abbiamo già C'è prof Non l'abbiamo mai giocato In modo sinergico Però Ok Lui ha il piano Lento Mi dà il Tottero Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Quindi Ensole Artifact Su Ornitottero Qua Eccolo Non mi serve Fare Ensole Artifact Con questo E se a counter Lo fa su questo Io metto un solo Artifact Sul Tottero No anzi Counter Counter Sai che forse L'abbiamo vinta adesso Perché Adesso Adesso io gli faccio due danni E poi mi do un Totterino In mano Lui adesso deve fare Tripla removal Una Una l'ha fatta Una l'ha fatta Però lo fa sul Totterista Giusto Guarda Guarda Totterista Come è entrato di prepotenza Tappa bene per Dio mio Tappa bene per Dio mio Eh si mi ha tappato due blu Eh si mi ha tappato due blu Mannaggia Vai Mi ha tappato due blu Va bene Vuol dire che adesso si aggiunge l'Hurrus Aspetta vuol dire che sono l'Ital Perché io faccio Così Così Ma come cazzo Ah scuola No qua sono stato io Così E così E va qua Poi faccio Terra tappata Non ha Terra tappata E mi metto già questo Qua sopra Questo non attacca Ovviamente Attacchiamo per nove Lui si fa un blocco volante Quindi Prende quattro E poi noi dopo Lo shotiamo back Ah per forza Ah si toglie il blocco volante Ma non mi blocca cinque danni Scusami Che fa Cosa fa Per prendermi Per mangiarmi 4-4 E i cinque danni volanti Non hanno dieci volte più forti Magari Remuva Remuva In mano Curiosissima Questa linea di gioco Di Oppo Ce l'ha davvero La removal Cazzarola Adesso toglie Ornitottero Così può bloccare Questo Devo pescare Quello che mi fa pescare In base agli artefatti Adesso moriamo Dalle retrofitter Allora È davvero riuscito A trovare Porta Bolozzi Opera Bravo Moriamo da quelle Bravo Bravo Ci sta Ci sta Ci sta Mi è riuscito a trovare Porta Bolozzi È finita Siamo morti noi Ha fatto una giocata Che non avrei mai fatto Ed è stato premiato Dal top deck Eh vabbè Poi cosa gli vuoi dire Se top deck Ha così Mi è finito Ci sta Va bene Bello però Che siano tornati Totterini Bello 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 Lui gioca La lista con Smith Tu arrivi tardissimo Tardissimo Sì siamo morti Va bene Allora Premio ci siamo arrivati Allora Uvi Totteri Ragazzi È carino L'ho ritrovato Abbastanza forte Abbastanza in forma Poi secondo me Perdi tutte le partite Contro Cerbel Se non hai il counter Per perdite un sacco di roba Però ci può stare Ci può stare Lì siamo stati sfortunati È stato premiato L'opo al top deck Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Grazie a tutti.